bella raga benvenuti in questo nuovo video appena smesso di piovere sono al lago di endine avevo delle idee fighissime per un video solamente che purtroppo ho il disco dietro che è tutto rigato e ha smesso seriamente di frenare cioè non sgomma nemmeno se lo schiaccio tutto e purtroppo quindi non lo potrò fare comunque verrà rimandato sono davvero dei video fighi secondo me almeno nella mia testa sono davvero fighi poi altra sfortuna una mia amica mi ha prestato il drone non si caricano le batterie io ho chiesto su instagram di farmi delle domande e quindi ora le leggo a non ve l'ho detto farò il giro del lago prima di iniziare volevo ringraziarvi davvero perché ieri inaspettatamente un mio video due miei video sono finiti sul canale zona rossa tv su twitch grazie a voi mi sto impegnando sempre di più per portare contenuti sempre più interessanti o raga le rane non so se si vedono ci sono delle learning engine allora prenderò le più interessanti prenderò prenderò filippo martin mi scrive dove si sarà il raduno del 9 allora il 9 giugno ovvero tra giovedì ci sarà il raduno a Bergamo ci troveremo tutti dalle due e mezza alle tre in stazione dei treni di Bergamo andremo verso il Galassia per cercare di non dare fastidio e divertirci tutti assieme ho intenzione anche di cambiare pompa a freno voglio qualcosa di di più visto che ho solamente il freno dietro e mi sembra giusto essere più sicuri e non solo anche avere prestazioni migliori ho intenzione di prendere un freno sempre shimano slx 7100 una roba del genere a quattro pistoni e montare dietro un freno da 180 perché ora ho sotto il 160 ciao bro guarda che spettacolo Cristian Belo mi scrive quanti anni ci hai messo a essere così bravo? io impenno da circa 5 anni ormai e non è una questione di essere bravi è una questione di praticare essere costanti stessa cosa con tutte le altre cose che fate a Cristian Belo mi scrive sempre hai una crew? se si come si chiama e non ho mai partecipato a una crew diciamo che siamo più un gruppo di amici noi quelli con cui esco di solito tra cui Pete che saluto ciao Pete forza Napoli dall'ultimo video che ho postato mi chiedete spesso di venire dove abitate voi per fare bike life per fare per impennare assieme mi ci vorrà un attimo di tempo ma prima o poi si farà se guardate le mie storie instagram probabilmente vi aggiornerò Tommaso Festa mi dice trick più difficile che sai fare la cosa che mi viene più difficile fare sono le combo ovvero l'insieme di trick Francesco Carminati mio fratello che saluto dice forza Napoli quindi ti rispondo così HTTPS Nicod08 mi scrive prezzo totale della bici diciamo che sono stato molto fortunato perché questa bici era di un mio amico dovrei aver pagata 200 euro cambiando alcuni pezzi l'avrò pagata tutto a 350 euro circa mi chiedete anche spesso dove si può comprare dato che Mafia Bike non spedisce in Italia io vi consiglio di controllare oltre che ebay ma anche Crucial BMX e questa qui è una Mafia Bike Marcus Pavone88 mi dice come è nata la passione per le bici e per i trick? allora vi devo dire sinceramente che io ho comprato questa bici senza sapere che fosse questa bici nel senso che un amico l'aveva quella qui l'ho comprata io avevo un abituino arancione che usavo per impennare così a caso non sapevo nemmeno cosa fossero i trick e allora ho detto vabbè voglio la bici col monocorona perché mi si spacca sempre mi si sballa sempre il cambio e col freno a disco perché sennò non frena nulla qui niente le ho viste la bici l'ho presa il primo trick che ho mai provato che mi sembrava strafiguretto no questo devo saperlo fare se no butto via la bici è stato sit stand in piedi sulla sella ci sta davvero tanto come trick permesso scusi grazie raga mi sono spaventato Lorenzo Lazzari che saluto un mio amico mi dice impienata più lunga il mio primo video sul canale proprio primissimo che purtroppo rimosso era un video in cui con la bici arancione la Btwin toglievo la ruota e mi facevo tipo erano 3 km senza ruota perché a Piacenza come avete visto il Faxel il ciclabile in cui comunque ho fatto vari trick è lunga dai tipo 4 km una roba del genere io diciamo che fino alla fine sono caduto proprio all'ultimo mi sono fatto sui 3 km diciamo Marco Gallo 1 mi scrive ti diverti più in bici o più in moto moto e bici danno due sensazioni diverse la moto è una cosa che ho sempre desiderato è bella perché tu tu dai gas e ti senti quella botta di adrenalina la bici invece ti da proprio soddisfazioni Cri09 mi dice come si fa handscrape ve lo spiego molto semplicemente ma volevo farci anche un bel tutorial fatto bene comunque in poche parole voi vi agganciate da qualche parte nel telaio io solitamente sotto la pedivella non so se si vede sotto la pedivella stacco la mano e vado giù piegando il manubrio e distaccandomi il più possibile strafigo raga imsafe mi dice quando hai iniziato ad andare seriamente in bici quindi a iniziare a fare stunt diciamo che ho iniziato a fare stunt con questa bici seriamente da giugno-luglio dell'anno scorso un anno preciso ormai che faccio stunt seriamente poi raga che spettacolo comunque non so se avete notato ho iniziato a fare video leggermente più lunghi del solito e mi sto prendendo un po' più di tempo per organizzare i miei video quindi niente raga le domande sono finite io ora continuerò comunque il video in caso scelta qualcosa di interessante o comunque vi farò vedere il giro del lago vi voglio raccontare cosa è successo ieri quando il mio video è saltato fuori su zona rossa tv in pratica io ero in pizzeria stavo andando a prendere le pizze per portarmeli a casa tutto tranquillo mi arriva una raffica di messaggi guardo il telefono tipo non so raga saranno stati veramente un centinaio di messaggi i miei amici che mi scrivono fra sei su zona rossa tv mi mandano delle foto e effettivamente c'era un mio video volevo guardarmi il video con calma quindi ho aspettato che arrivassero le pizze per correre a casa e guardarmi la live ma le pizze sono arrivate mezz'ora dopo però fortunatamente ha registrato la live dei miei amici me l'ha mandata e comunque è stata cioè assurda come roba stavo per schienarmi non ha frenato altra la la